Musica Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti al consueto appuntamento con i giornali, occhio ai giornali appunto e un saluto anche a coloro che ci seguono durante le repliche nel corso della mattinata i giornali sono pronti, li abbiamo già scaricati sul touchscreen, vediamo però come sempre l'almanacco del giorno e le previsioni del tempo sabato 20 febbraio è Sant'Eleuterio Vescovo, il sole è sorto alle 6.59 e tramonterà alle 17.44 previsioni del tempo, vediamo un cielo inizialmente nuvoloso, però rapida diminuzione della nuvolosità già nella mattinata e precipitazioni ci sono anche nelle prime ore della giornata, anche a carattere di rovescio e temporale lungo la fascia costiera vedete la simbologia della pioggia, è presente nell'Anconetano, insomma il limite delle nevicate però è oltre i 1200 metri ma temperature anche in virtù di questo in forte diminuzione. vediamo le giornate di domenica e lunedì, domenica si presenta così con un sole pieno sulla costa e una leggera nuvolosità sui rilievi, quindi sereno poco nuvoloso, nessuna precipitazione, le temperature però in virtù di questo risalgono lunedì lo schema è praticamente lo stesso come vedete quello di domenica. Bene, giornali pronti, partiamo da Fano e per quello che riguarda la cronaca è un episodio riportato un po' in tutti i giornali e anche noi ve ne abbiamo dato notizia ieri, un episodio brutto sinceramente perché coinvolge anche dei ragazzini che non avendo niente di meglio da fare lanciano pietre agli autobus e quindi lanciano pietre sui bus per gioco 4 ragazzini sorpresi al pincio dai poliziotti, danni ai mezzi per 8 mila euro, quindi insomma danni non da poco Tabaccaia vende sigarette anche a un minore, multata di 1000 euro e segnalata per la sospensione della licenza questa è l'altra notizia di cronaca contenuta nell'articolo e poi in testa si parla di sport e di daspo provvedimenti per 9 tifosi dorici, quindi Anconetani per gli scontri allo stadio Mancini per Alma Juventus Fano Ancona di spalla c'è un articolo che riguarda appunto il caso della Casa Popolare che era venuto alla ribalta ultimamente per lo sfratto della segnataria e qui il Corriere Adriatico fa un parallelismo tra il caso Grizzly e l'occupazione appunto abusiva di quei locali e questo della famiglia Vindice e in ambedue i casi insomma il Corriere indica una lentezza nel prendere decisioni, però insomma buone notizie per la signora che ha in affido, in assegnazione l'appartamento occupato abusivamente perché la famiglia Vindice traslocherà grazie all'intervento di un contratto favorevole di un privato, quindi insomma la signora assegnataria che era sotto sfratto da dove si trovava in questo momento avrà finalmente il suo appartamento quello che gli è stato assegnato. Bene, si parla anche di smog e di inquinamento, anche questo è un argomento firruge nei giornali, c'è stata una conferenza stampa a Bellocchi, la centralina installata grazie alla collaborazione tra il privato, quindi la Profiglass e insomma il comune, provincia e gli enti preposti ha fatto sì che arrivassero i primi dati, l'area non è inquinata, i dati numerici però saranno come dire disponibili da marzo sul portale dell'ARPAM e quindi saranno consultabili, però i valori sono al di sotto sicuramente delle soglie indicate per quello che riguarda il rischio. Allora andiamo a Pesaro con il Corriere Adriatico, zone produttive da riqualificare, quindi è avviata un restyling globale, insomma ieri c'era il centro storico e Ricci ha presentato anche altre zone da riqualificare, quale Vismara, Tombaccia e Cattabrighe, quindi un'operazione di restyling a tutto tondo della città avviata dal sindaco Ricci e poi si parla dello sgombro che è avvenuto qualche giorno fa in via dell'Acquedotto, uno sgombro coatto per abusivi e i Cinque Stelle insorgono, dicono inaccettabile, lo sgombro senza alternativa per quelli che erano in quella zona. Rimaniamo nelle pagine del Corriere Adriatico e continuiamo a parlare di Fano e naturalmente della politica e di un referendum che era stato ventilato dai Fano e Cinque Stelle, il PD fa quadrato e dice no a ogni istanza, non passano le richieste di referendum e Marta Ruggeri dice raccoglieremo le firme. Era una seduta dove si discuteva di sanità e i Cinque Stelle chiedevano il passaggio della competenza di sanità dalla giunta regionale al Consiglio che è considerato un po' più permeabile come si dice qui, però insomma questa mozione è stata bocciata e vedremo come sarà il proseguo di questa vicenda, passeggi, parliamo dei passeggi del polmone verde vicino al centro storico affidati a un gestore privato. Ma sale la protesta, Elisa Bilancioni, una operatrice della cooperativa Gerico molto impegnata nel sociale, è rimasta un po' delusa da questa decisione, l'assegnatario ha offerto una cifra modesta di 345 euro tagliate fuori da questa decisione associazioni e la cooperativa. Allora vi faccio vedere l'ultima pagina del Corriere Adriatico che vi voglio proporre, buone notizie, andiamo a Senigaglia, come sempre vi facciamo vedere anche cosa avviene nella limitrofa città. Gli alluvionati, quindi si parla di indennizi per i danni dell'alluvione, arrivano 25 milioni. L'avvocato Canafoglio, incaricato da 350 famiglie e 50 imprese per curare la mediazione, ha annunciato questo arrivo di indennizi per 25 milioni. Quindi insomma buone notizie per coloro che hanno subito gravi danni in virtù proprio di quell'episodio. Andiamo nelle pagine del resto del Calino, vi porto lì e si parla di lavoro in quelle che riguardano Pesaro e una cooperativa, la TDK, che insomma vengono traslati 765 lavoratori dalla vecchia TDK a Nuova Orizzonti. Un'altra cooperativa sempre controllata dalla stessa TKV, scusate, TKV, la TDK era un'azienda di cassettine. TKV nasce, quindi dalla TKV nasce Nuova Orizzonti, gli stipendi saranno pagati entro marzo e quindi buone notizie per questi 765 dipendenti, incontro firme con i sindacati, quindi lo stipendio è assicurato, insomma questo è, perché poi quando avvengono questi episodi a fare le spese spesso sono l'anello debole, ovvero sia i lavoratori e i dipendenti. Cronaca nelle pagine del resto del Calino, cronaca nera con assalti a un locale per la quinta volta nel giro di un mese, si parla di una pizzeria, la pizzeria del gaming, viare Trieste, quinta visita, diciamo così, dei ladri. Poi un altro caso, ruba un cappotto e portafogli all'Arci e poi va tutto a giocare alle slot machine, è stato arrestato, la dipendenza patologica da gioco alle volte fa veramente perdere il senno e quindi dopo essersi giocati stipendi interi si ricorre a questi mezzi perché è una vera e propria dipendenza quella patologica da gioco. Si parla del pianeta scuola, anche nelle pagine del resto del Calino insorgono una pietra miliare delle nostre scuole, ovvero sia i bidelli, un po' genitori di tutti noi, spesso consiglieri e un po' operatori della scuola, ricordi bellissimi legati alla scuola anche ad alcuni bidelli molto storici. Allora sono stanchi di essere invisibili questi preziosi collaboratori della scuola, una mobilitazione del personale, noi precari per sempre e quindi alzano il velo della protesta perché vogliono avere più visibilità. Ancora nelle pagine del resto del Calino andiamo in quella che riguarda Fano, in quelle che vi farò vedere per Fano, Giovanni Ciaschini scrive le sue prigioni ma è stato arrestato di nuovo a Rimini, sparò nove colpi di pistola in un parcheggio, se vi ricordate un po' di tempo fa, un rivale in amore. E poi bastonate, calci, cazzotti, questo è quello che è avvenuto durante la partita al Magventus Fano Ancona e quindi d'aspo a nove ultradorici assaltarono i tifosi fanesi, ora devono firmare in questura mentre gioca l'Ancona. Si parla di una statua, la statua del Beato Sante che tutti i fanesi conoscono ma che fa litigare il convento e il comune sulla proprietà. Fano dice che la statua appartiene a noi ma padre Mandolini la rivuole dopo il restauro, un passaggio di consegne per effettuare il restauro, ma la statua proveniva dalla chiesa di Santa Maria Nuova, quindi del comune di Fano, ma l'assessore Marchigiani si mostra disponibile e dice che dopo i lavori possiamo anche ridargliela, però manca il documento ufficiale per questo. Ultima pagina che vi faccio vedere di Fano, si parla appunto di quello che vedevamo prima di questa conferenza stampa che ha annunciato i dati sull'aria che si respira a Bellocchi, vedete ARPAM, ASUR, Comune, Regione, insomma tanti soggetti in questa operazione, valori molto bassi, ancora i numeri precisi non sono stati dati, neanche per quanto riguarda i metalli, soltanto dati parziali, non sono disponibili i valori per le PM10, quindi insomma le particelle pericolosissime perché i filtri sono da ancora aggiustare, sono da mettere a posto, però insomma a marzo hanno detto i tecnici che questi dati saranno disponibili appunto nel portale e consultabili online da tutti i cittadini per appunto monitorare proprio l'aria che respirano. L'ultima testata che vi faccio vedere è il messaggero come di consueto, si parla in apertura di pagina sulla fusione appunto Monbaroccio, Pesaro, Urbino e Tavoleto e Ricci torna alla carica su questo concetto. Dopo le ipotesi del 13 o 20 marzo il sindaco propone il referendum dei il 17 aprile, setticismo in regione però sui tempi e quindi forse qualcosa slitterà. Nella fotonotizia appunto gli scontri del Fano Ancona, prendono sassate gli autobus e denunciate appunto questi ragazzini che erano studenti, pensate di giovanissima età, 12 e 13 anni scoperti proprio dalla polizia. Il meteo, le temperature sono in aumento e poi la regina della pasticceria amatoriale si chiama Giulia, è una studentessa di San Giorgio di Pesaro e ha vinto a Fano Chef in the City Cake Edition. Sicuramente notizie dolci per lei. Andiamo nelle pagine di Pesaro, vi porto dentro le pagine di Pesaro per il messaggero, Ponte sul Foglia ci penserà il Comune perché dopo il crack Molazzani, il collegamento ciclopedonale sarà realizzato dall'ente pubblico ma sarà ridimensionato nella sua proprio fruibilità e appunto si parla di referendum, quello che vi dicevo prima è Fusione, Ricci rilancia il referendum dei e anche qui viene, perché faccio vedere il trafiletto, il primo cittadino vuole accelerare anche sul nuovo ospedale per venire incontro a Fano pronto a spostare i confini. Questa è la sua dichiarazione. Ultima pagina che vi sottopongo, è quella del messaggero di Fano. Anche qui due notizie già viste, sassate contro il bus, ragazzini denunciati, però vi propongo questo qui che riguarda la Vib, l'azienda che ha preso fuoco dopo il rogo, è stato vietato l'accesso a parte della ditta, quindi una misura precauzionale del sindaco perché ancora dovranno essere fatte verifiche sull'amianto. Bene, grazie, siamo arrivati fino in fondo con qualche problema alla voce, grazie per essere stati in nostra compagnia, mi scuso per la voce rauca ma purtroppo frutti di stagione. Grazie, occhio ai giornali, torna lunedì mattina alle 7.30 naturalmente puntuale e questa sera, occhio alla notizia edizione del sabato alle 20.30. Grazie, buona giornata e buon fine settimana a tutti voi.